E arriva anche quest'anno la 8 giorni del Festival di Letteratura per Ragazzi organizzato da Fondazione dei Monti Uniti, Biblioteca Magna Capitana e Comune di Foggia. Protagonista della settima tesissima edizione Il Mare come luogo e come simbolo, dal viaggio all'approdo senza dimenticare le tematiche ecologiche. Una serie innumerevole di appuntamenti per far fiorire sulla pagina le storie e le illustrazioni dei migliori autori della letteratura per l'infanzia e per ragazzi e ragazze, che si terranno nei diversi spazi culturali della città, tra musei e librerie, accademie e auditorium, tra teatri e librerie. 107 laboratori, 11 spettacoli, 12 incontri con l'autore, 2 concerti e le tanto desiderate notti in sacco a pelo in biblioteca. Ne annunciano così le virtù, gli organizzatori e entusiasti anche per questa settima edizione. Tantissimi incontri come le precedenti edizioni, 135 appuntamenti, divisi tra laboratori, spettacoli teatrali, incontri con gli autori. Novità, novità è che da quest'anno siamo tra i super festival in Italia, per cui nella mappatura dei festival importanti in Italia ci siamo anche noi. Il festival è stato un richiamo per la regione ma anche per l'intera Italia, per i grandi nomi della letteratura per l'infanzia e per i bambini, per i ragazzi. Quest'anno quali sono graditi i ritorni o novità nel panorama letterario? Graditi i ritorni di Antonio Ferrara, di Fuad Aziz, di Antonio Boffa, di Teresa Porcella, le due notti in sacco a pelo con Sergio Agostini. Ma rincontriamo Andersen attraverso Barbara Schiaffino che verrà a presentare Andersen a Spasso, un progetto editoriale molto interessante che ci permetterà di far lavorare le classi per un concorso. E domenica sera, il 29, ci sarà la premiazione e sarà lei, Barbara Schiaffino, la direttrice della famosa rivista Andersen e la letteratura per l'infanzia, a premiare le scuole che vinceranno. Ma un'altra sorprendente novità riguarda l'invito da parte del Consolato Italiano a Gerusalemme per un festival di arti per bambini da realizzarsi la prossima estate nella città vecchia. Invito al gemellaggio subito accettato e ora si cominciano a scaldare i motori. Si parte con Aspettando Book è un'appassionante mostra nella galleria della Fondazione dei Monti Uniti in cui il mare si racconta. Appuntamento per prenotazioni e biglietti dal 9 ottobre presso la Pinaconeca 900. Ma il festival vi aspetta anche su Facebook e YouTube.